Allora, siamo dal meeting di Uniti contro la crisi alla rivolta di Marghera, chiaramente Maurizio Landini che ha appena finito di fare il suo intervento nell'assemblea plenaria e approfittiamo di questo fatto magari per puntualizzare alcune cose. Allora, giustamente tu nell'intervento dicevi c'è questo elemento che anche Uniti contro la crisi come sperimentazione nuova introduce che è quello del rapporto tra la forma dello spazio pubblico della partecipazione e le decisioni. E dicevi, qui si coglie anche un aspetto come si coglie dentro le fabbriche, dentro il piano di società di Marchionne, si coglie uno degli aspetti centrali del nodo della democrazia, cioè bisognerebbe costruire dei meccanismi per cui a decidere alla fine siano sempre le persone, possano farlo continuamente, dicevi. Sì, io penso che la crisi della democrazia e queste spinte autoritarie che ci sono nelle fabbriche e nel paese pongono un problema nuovo, e cioè che il diritto di decidere sulle questioni sindacali ma anche sulle questioni politiche deve sempre essere messo in testa ai cittadini e alle persone, anche come elemento di verifica di quello che avviene, anche come elemento di nuovi luoghi di partecipazione alla formazione delle decisioni. A me pare che questo sia l'elemento su cui noi dovremmo spingere molto, quando dico noi tutti quelli che pensano che bisogna costruire un diverso modello sociale, più democratico, con maggiore giustizia e con più diritti per le persone, perché credo che è proprio la maggior democrazia che fa paura a questo modello, alle imprese e a chi pensa che non c'è nulla da fare rispetto ai processi globali dove le imprese e il mercato comandano. Senti, volevo dirti, adesso c'è lo sciopero del 28, chiaramente questo meeting tra l'altro si colloca tra, dopo il referendum di Mirafiori, dopo la grande battaglia di Mirafiori, la prima grande battaglia che ha visto appunto un fuoco di fila incredibile contro la FIOM nel tentativo di imporre ai lavoratori questo tipo di accordo truffa, diciamo, e dall'altra parte c'è lo sciopero del 28 che è una risposta che già avevate deciso, dicevi. Ecco, rispetto anche a questo nodo dello sciopero, tu che senti un po' giustamente anche il polso dei lavoratori dentro le fabbriche, no? Questo elemento dell'astensione dal lavoro che comunque ogni lavoratore deve pagare di tasca sua, cioè ogni volta che fa sciopero deve pagare, è sempre più limitato sostanzialmente e che trova poi in una forma, diciamo così, il più delle volte ha trovato in una forma abbastanza rituale, se vogliamo, anche l'elemento così della sua espletazione, no? Ricordavamoci, sono tanti, quando la Camusso dice ne abbiamo fatti tanti di scioperi generali, sì, ma quanti hanno funzionato, cioè nel senso quanti sono stati veri? Ecco, trovi che questo sia un argomento anche da introdurre nella discussione? Cioè, per esempio, forme di partecipazione vuol dire anche inventarsi anche nuovi modi di sciopero, tra virgolette? Penso assolutamente sì e penso che il problema è anche il tempo con cui le fai. Sei di fronte a una radicalità e una velocità dei processi che è necessario rispondere adesso e impedire adesso che il modello della Fiat si estenda, che la Fiat possa applicare quell'accordo e quindi c'è bisogno non semplicemente di una protesta, di far vedere che c'è un'opposizione, ma di porsi il problema di quali modalità di lotte si mettono in campo e si continuano per impedire che questo processo possa realizzarsi e per provare realmente a cambiarlo, non tra un po' di tempo adesso, perché se passa l'idea che si possono cancellare i diritti, che Marchionne può fare quello che vuole e che c'è una regressione autoritaria, dopo le persone avranno meno diritti e meno possibilità di poter agire e di poter cambiare la situazione. In questo senso il 28 io credo sia importante perché deve dare visibilmente dire due cose, che la maggioranza dei lavoratori metalmeccanici non è d'accordo con la Fiat e con la Confindustria, ma anche che attorno alla lotta dei lavoratori metalmeccanici c'è un mondo vasto, gli studenti precari, non è una lotta solo dei metalmeccanici. Dopodiché c'è un problema di come si continuerà questa lotta e allora io penso sia che la CGL debba arrivare allo siopero generale, sia che si debba aprire anche una discussione di come sul territorio, nelle fabbriche, prosegue questa pratica, questa lotta con degli obiettivi anche da realizzare per impedire che questo si estenda. Perché se dalle fabbriche e dai territori vengono fuori accordi e iniziative che dimostrano che è un'altra strada possibile, questo è il modo per mettere in discussione anche le scelte della Fiat e della Confindustria. Sui vostri manifesti, i manifesti della FIOM per il 28, proprio c'è uno slogan, diciamo così, importante secondo me, per una mobilità sostenibile. Oggi noi siamo a Marghera dove sono state le prime lotte operaie a porre il problema della nocività, per esempio della produzione chimica, credo che è importante che coloro che costruiscono e che producono le auto con la loro fatica si interroghino sul tema della mobilità, però questo sembra essere un argomento che non vuole essere fatto entrare nella discussione pubblica e invece io credo che sia un nodo centrale anche delle nuove forme di sciopero, cioè bisognerà cominciare a scioperare tutti per avere auto diverse, per esempio. Sì, io credo che l'assenza di una discussione politica su che cosa significa oggi produrre e che cosa si deve produrre, a cosa serve, per quale società, per quale idea, è la vera discussione che si deve aprire. In questo caso la mobilità sostenibile vuole proprio avere un messaggio. Il prodotto che serve in futuro non è l'auto, il prodotto è la mobilità, come si spostano le persone, come si costruiscono le città e quindi come tutti i mezzi di trasporto per le merci e per le persone non debbono inquinare e debbono avere un rapporto sostenibile anche con l'ambiente e con le persone. Questo vuol dire ripensare a 360 gradi ma vuol dire anche un'altra cosa, che serve una politica pubblica, serve un intervento pubblico, che le imprese da sole, se pensano solo al profitto, non vanno in questa direzione e serve anche dire che la qualità del lavoro ha una caratteristica, ma vuol dire anche mettere in discussione cosa si studia, qual è la ricerca, cosa si studia nelle università, cosa si insegna alle persone, qual è la ricerca, qual è l'innovazione. C'è proprio bisogno di cambiare un modello sociale e anche un modello di sviluppo che così non funziona più. Credo che la lotta dei lavoratori e anche della Fiat ha un significato, se oltre a dire no alla cancellazione dei diritti si apre anche una discussione, una fase in cui l'obiettivo della lotta è anche un diverso modo di produrre una diversa società. Questa a me pare la domanda che mette assieme anche i giovani, gli studenti, i precari, tutti quelli che non ne possono più di un modello che sia dimostrato che è contro chi lavora e riduce i diritti alla democrazia nel nostro paese ma anche nel mondo. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Uniti contro la crisi, come vedi questa esperienza? Adesso la stai frequentando da un po', partecipi ad alcune assemblee, ad alcune cose, senti la discussione ovviamente dei tuoi compagni, della FIOM che vi partecipano come Gianni Rinaldini e altri, ma come la vedi tu? Qual è la tua valutazione? Io credo che sia un'esperienza assolutamente importante e nuova perché c'è bisogno per ognuno di mettersi in discussione. Se in questi vent'anni in Italia ha vinto Berlusconi vuol dire che è passata una cultura che non siamo stati in grado di contrastare e allora credo che tutti abbiamo bisogno di metterci in discussione e il fatto che le persone, i soggetti si uniscano, ragionano, discutano tra di loro, partecipano attivamente e vogliono essere soggetti del cambiamento, io credo che sia una cosa assolutamente importante. Anche il sindacato, anche la FIOM ha bisogno di cambiare, ha bisogno di ascoltare, ha bisogno di rapportarsi con tutti e in questo senso io credo che anche queste forme nuove di costruzione di idee, di progetti, di consenso, di un altro modo di pensare siano la strada per allargare la democrazia che dicevamo prima ma anche per costruire delle soggettività che nel tempo possono durare e quindi io la vivo come una cosa importante e anche diciamo qui come un'esperienza da cui ascoltare e imparare delle cose disponibili naturalmente a metterci in discussione tutti. Ti ringrazio Maurizio, ci vediamo al 28.